Dani sfoggia allora pronto per il gran premio di casa si pronto come sono le sensazioni ma dai quasi respirare di casa ed è sempre bello speriamo andrà bene il weekend cercherò di fare del mio meglio e lavorare con il team molto duro come stiamo facendo dai speriamo bene non è stato facilissimo questo esordio nel mondiale no no specialmente la prima gara la seconda eravamo lì poi purtroppo sono scivolato alla terza abbiamo avuto un problema mentre mentre facevamo la gara alle mans abbiamo avuto un problema moltiplicante non siamo riusciti a sistemarlo però sembra che dai test che abbiamo fatto a barcellona quel problema si è risolto e quindi dai vedremo qua daremo il nostro 100% e vedremo cosa accadrà ti senti cresciuto come pilota in questi in questo inizio diciamo in moto 3 a livello world championship ma sì ho fatto molto bagaglio nel ceb e me lo sono sicuramente riportato qui e comunque sì mi sento dai un po' più cresciuto a livello tecnico nel modo come lavoro con il team e quindi dai di questo sono contento ma c'è ancora molto da imparare aspettative per questo weekend del Mugello non lo so perché qui ci ho girato ma cinque anni fa quindi ecco magari rientrando in pista troverò magari qualche difficoltà però non lo so non dico nulla quindi paradossalmente gara di casa ma pista che conosci un po' meno di altre sì sì sì